Salve a tutti i giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video chiedo infinitamente scusa per la voce ma mi sono svegliato con un mar di gola così elevato che è come se mi stesse prendendo a cazzotti in faccia per dire, non direttamente a cazzotti dentro quindi chiedo venia, mi sto regredendo sempre di più comunque annunciato Terminal World 2 quindi andiamo a vedere di che cosa si tratta prima di iniziare come sempre ragazzi invito comunque a scrivervi il nostro canale per dire sempre aggiornati ricordo che l'iscrizione ci aiuta tantissimo io vi ringrazio detto ciò partiamo mamma mia no sento che la voce non... allora Terminal World uscirà il 23 novembre 2024 in OCG quindi per noi al momento ancora non si sa però potrebbe uscire come Battle of Legend a questo punto perché considerando i precedenti allora tante riprinte di carte di Duel Terminal che servono per costruire questi deck quattro temi ogni pacco, vabbè, continua super o una realtà più alta quarter ma quello che più ci interessa è che sono stati confermati due temi favoloso Jurak allora per Jurak serve tipo una ristrutturazione completa roba da buttare giù e rifare tutto sostanza perché comunque delle piccole cose carine c'è là ma è troppo vecchio per me è troppo vecchio come mazzo cioè non mi ripro non so neanche se c'è degli extender quindi poi vabbè essendo fuoco molto probabilmente qualche mixone uscirà fuori però Jurak gli ci vorrà tanto Jurak gli ci vorrà tanto secondo me quindi saremo a vedere però non è neanche detto magari fanno un lavoro come Ice Barrier però Ice Barrier già aveva comunque qualcosa che potesse fargli fare un passo in più magari renderlo almeno log poi che non si sia confermato al momento ok però in sostanza mi sembra Miley Cyrus quando parla in quel meme vabbè comunque in sostanza vediamo vediamo perché Jurak veramente gli serve un bel po' Fable Fable è tanta roba Fable è tanta roba non lo dico solo perché è un demo deluce e quindi Fismith a go go ma già di base comunque è un mazzo molto particolare molto interessante che fa tra virgolette la Dark World no? scarti e fai robe quindi già comunque qualche cosina fa cioè ormai da solo non è che faccia tantissimo però di base come facevo l'esempio per Ice Barrier comunque qualche cosina ce l'ha di base è molto bene i sincroforti comunque con il Fable si usa si evocano specialmente quando gli scarti quindi delle cosine interessanti le puoi fare quindi già Fable vi devo dire sono abbastanza contento sia perché comunque di artwork a me mi piacciono particolarmente sia perché come effetto sono interessanti il fatto di scartare poi vabbè se c'è pure le stesse carte dell'opo succedono robe delle volte quindi è interessante è interessante vedremo come può comunque adattarsi insomma che poi molto probabilmente Fable lo mixeranno pure con Fismith e uscirà qualcosa di veramente inguardabile più o meno però ci sono altri due temi quindi andiamo a vedere in sostanza quali altri temi ci saranno in totale 93 carte 93 normal parallel 12 come quarter 20 come ultra 24 come super va bene allora andiamo a vedere che cos'altro ci potrebbe stare allora io vorrei partiamo male io vorrei in primis Shabbo la X perché effettivamente è quell'archetipo che ha bisogno ha bisogno di di supporti ma ha bisogno proprio di essere rigiocato perché era un mazzo veramente molto molto figo quindi avere di nuovo uno Shabbo la X adesso nel tra virgolette meta attuale nel gioco odierno secondo me sarebbe tanta tanta roba forse anche al lato della giustizia però al lato della giustizia è un po' particolare con Stellar non credo forse anche Flammovell però col fatto che già hanno messo Jurrak che comunque Jurrak a fuoco a sto punto io so che potrebbe essere troppo potrebbe essere troppo ma Headsworm Headsworm insomma voglio dire potrebbe essere il top vero che vai a toglierti due archetipi incredibili magari per un Terminal World 3 però vi devo dire forse anche Gusto a sto punto invece di uno dei due forse Gusto potrebbe essere interessante l'archetipo vento che comunque voglio dire qualche cosa di interessantino ce l'ha anche per ricalcare l'onda di Ritual Beast col vento no? per dire oppure anche l'Aval però l'Aval lo stesso di Flammovell Mist Valley addirittura Naturia non credo e Worm magari Worm potrebbe essere molto interessante comunque un mazzo rettile che comunque aveva delle carte interessanti quindi anche Worm secondo me potrebbe fare la sua comparsa ecco diciamo che secondo me due di questi qua forse anche con Mist Valley potrebbero essere molto molto interessanti perché meriterebbero tutti quanti dei supporti alla fin fine soprattutto sti due sti due perché hanno fatto hanno impattato di più però stiamo a vedere comunque contento per Fable giurrà che dovranno veramente ricostruirlo da zero dagli extender dagli addini dagli dei sincron nuovi dagli magie robe nuove perché effettivamente giurrà che è un po' indietro è un po' indietro comunque detto questo ragazzi scusate ancora per la voce ma non ci posso fare niente fatemi sapere voi cosa ne pensate ovviamente quali secondo voi archetipi verranno introdotti molto probabilmente ci saranno anche altri ma non li ho trovati perché io mi ricordo che ce n'erano un botto mi ricordo dal Terminal World 1 che avevano fatto la stessa cosa di andare a vedere gli archetipi e molti mi avevano detto c'erano anche questo 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 e quest'altro però non è che nei siti me lo fanno vedere quindi voglio dire comunque se ce ne sono altri non menzionati fatemi sapere detto questo beh vabbè fatemi sapere cosa pensate noi come sempre ci vediamo nel prossimo video io vado a svernare da qualche parte e un saluto a tutti